Che divertimento con le nuove Pini Pon! Nuove pettinature! Hanno i capelli veri! Sono sportive! Con gli sci e la sciarpa! Sono fatine! E profumano di frutta! Che carine! Questa sarà la vostra casa! La nuova collezione delle Pini Pon! È meravigliosa! Famosa! Tip Toy! Il sapere prende vita! Ma come si divertono! Eh sì! Grazie a Tip Toy! Il nuovo sistema digitale per giocare, scoprire, imparare ed ascoltare! Ah, è un tablet per bambini! No! Molto più ricco e divertente! Funziona con giochi, libri, puzzle e globo! Tip Toy! La rivoluzione del gioco interattivo!